Mauro Curto, fast box, una bella vittoria, dopo due sconfitte ritornate a correre. Sì, è stato importante il risultato, anche perché venivamo da un periodo difficile, da tante assenze, quindi era da stativo vincere, ritrovare il morale. Secondo me non ci avete capito un cazzo, scusi, che cazzo del partito avete visto? All'inizio siete partiti molto bene, poi forse queste paure sono venute fuori, quando loro hanno provato la rimonta. Sì, soprattutto perché eravamo in difficoltà anche col campo umido e non riuscivamo a giocare il pallone. Però alla fine con un po' di carattere, un po' di sacrificio ce l'abbiamo fatta. L'obiettivo stagionale era quello di stare ai piani alti oppure quello che viene? Fondamentalmente non ci poniamo limiti, il fatto è che comunque sia dobbiamo essere tutti. Sì, è quello di unico discorso. Va bene, grazie, bocca al buono, proseguo. Prego, grazie.